Inizia la lunga rincorsa, una stagione che partirà a novembre, sarà la prima volta in B1 per l'Olimpia, sarà la prima volta in B1 anche per Giulia Bilamur. Da capitano, insomma, direi una bella stagione importante. Sì, una grandissima soddisfazione, per me appunto è il primo anno in questa categoria e sono contenta di affrontarla con la mia squadra e come capitano di questa squadra. Il press ha fatto un grandissimo lavoro, abbiamo una rosa molto competitiva e abbiamo tutta la speranza di fare un grandissimo campionato, sperando appunto a novembre, nonostante l'anno particolare, di iniziare una bellissima stagione. Questo ultimo colpo, l'arrivo di Valentina Righetti, alza ulteriormente la sticella e credo anche per tutto il gruppo sia una fonte di ispirazione. Siamo molto contenti, nessuno se l'aspettava, è sicuramente un grandissimo colpo per la pallavolo Ligure, abbiamo riportato Valentina appunto nella sua città natale e sì, speriamo di riuscire ad assorbire molto, soprattutto a livello tecnico, ma anche a livello mentale, da una giocatrice che ha assolcato i terreni di molte palestre importanti negli ultimi anni. Senti, sarà un anno un po' complicato e difficile, intanto nelle previsioni con la ripartenza post-covid è difficile fare una previsione, ma che stagione immaginate da esordienti, da debuttanti in una B1 che magari non conoscete neanche benissimo, però tra voi che sensazione avete? Abbiamo delle buone sensazioni, secondo me è una bella squadra e possiamo anche provare a fare un campionato competitivo, sicuramente l'arrivo di Valentina porta un valore aggiunto alla nostra squadra, ma vogliamo fare del nostro meglio e sicuramente proveremo a fare del nostro meglio. E poi c'è un altro fattore, una palestra importante come il Figoi, dove insomma poter giocare, giocare in casa con tutte le squadre, quindi con tutto il progetto Serteco Olimpia. Sì, io sono molto affezionata a quel palazzetto perché l'ultimo anno in Serteco io l'ho giocato appunto al Figoi e sono molto affezionata anche al campo dell'Olimpia, ma penso che per la nuova categoria un palazzetto con una capienza maggiore, quando e se si potrà portare il pubblico, sarà anche una bellissima avventura per tutti noi.